Buonasera, sono il vostro sindaco. Questa comunicazione è per aggiornarvi oggi 9 aprile dell'andamento del Covid-19 sul nostro territorio. Ad oggi registriamo, secondo i dati ASL, 51 casi positivi, un ulteriore deceduto che porta il totale a 5 e 36 casi di isolamento domiciliare. A tutti coloro che combattono contro il virus l'augurio della città e ci stringiamo al dolore dei familiari che hanno registrato questa perdita. È fondamentale proseguire nell'impegno che quotidianamente ognuno di noi mette in campo per rappresentare la vera barriera alla diffusione di questo nemico silenzioso. Insieme come comunità ce la faremo e ce la stiamo facendo. Non molliamo.